Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi E questo è il mio ritorno su Youtube Il mio tanto atteso ritorno Per qualcuno di voi Sono tornato su Youtube Per continuare a fare i video Era ovvio Quindi I am back Ragazzi e dispetto di qualcuno che diceva Qualche maligno Che avrà pensato Maxi non torna Maxi si è ritirato Maxi ha smesso di fare i video No ragazzi tutte cazzate Maxi ha avuto solo qualche piccolo problemino Però Maxi è ancora in carreggiata Quindi sono tornato sul canale per voi Il canale è il vostro Quindi sul canale potrete trovare tutto quello che volete E quello che pubblicherò Insomma Proverò A cercare contenuti nuovi Proverò A migliorarmi E spero che con il vostro aiuto Miglioreremo insieme Insomma Mi aiuterete a crescere ancora di più Ragazzi Mi dispiace per tutto questo tempo che sono mancato Però comunque Eccomi qua Sono tornato di nuovo Proverò anche a portare dei nuovi contenuti In questo mese di agosto Vedremo cosa si potrà portare di nuovo Glitch, contest Insomma Tutto quello che è il mio canale Quello che è sempre stato il mio canale ragazzi E quindi andremo a continuare A fare quello che si faceva prima Insomma Se torna in pista come sempre Raga Non è che Uno sta lì Pia se ritira insomma No Non mi pare che io mi ritiro E poi dopo L'ultima volta che Comunque mi hanno regalato Addirittura la targa Ragazzi Posso ritirarmi? No No Non posso ritirarmi Quindi Automaticamente Sto qui Ragazzi Penso a breve Porterò qualche Glitch di GTA Qualcosina Di nuovo Quindi Rimanete connessi sul canale Per questo video È tutto Un saluto A tutti quanti voi E al prossimo video Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.